I pazienti covid potranno essere trasferiti a Pescara, ma con loro arriverà anche il personale sanitario. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veriponi così fine alle polemiche dei giorni scorsi riguardo i ricoveri. Il sindaco dell'Aquila Biondi e la deputata Pezzopane avevano chiesto che i pazienti fossero concentrati nel covid hospital di Pescara, così da riprendere le attività ordinarie in sospeso negli altri nosocomi e smaltire le lunghe file d'attesa, dando priorità ai pazienti oncologici. Ne sono oltre 50, ha dichiarato il primo cittadino, coloro che all'Aquila tendono di sottoporsi a intervento. La proposta, che aveva ricevuto l'immediato benestare del direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza, era stata però bocciata dal coordinatore della task force per far fronte all'emergenza covid, Alberto Albani. Se spostassimo i pazienti a Pescara dovremmo dirottare il personale sanitario, in particolare anestesisti, al covid hospital, così da ingolfare l'ospedale civile. Questa è la posizione del dottor Albani, posizione superata dalla riunione di sabato. L'Averi infatti ha incontrato Cosenza, Albani, il direttore del Dipartimento Regionale Sanità, Damario, e i direttori generali delle quattro asla abruzzesi per trovare la quadra. Al termine dell'incontro nessuno ha rilasciato dichiarazioni, ma la decisione è stata presa. Al momento in Abruzzo la situazione ricoveri è sotto controllo, con 11 pazienti in terapia intensiva. Se la situazione dovesse diventare più complicata, via libera al concentramento dei degenti in un'unica struttura di rianimazione, per l'appunto quella di Pescara, sulla base di un accordo tra le singole aziende sanitarie che prevede anche la messa a disposizione del personale necessario a garantire l'assistenza. Il Covid Hospital di Pescara, costato 11 milioni di euro, inaugurato oltre un anno fa, conta 214 posti letto, di cui 40 in terapia intensiva. Grazie Veri, grazie Marsilio, ha commentato il sindaco Biondi, parlando di vittoria per tutti gli abruzzesi. Al contrario, per la deputata Pezzopane si tratta di un risultato parziale schizofrenico, frutto di una decisione frettolosa. Il Covid Hospital è un ospedale fittizio, ha detto la Pezzopane, perché il personale sanitario è sufficiente ad assistere solo otto pazienti in terapia intensiva. I soldi sono stati spesi solo per Pescara, ha concluso la deputata PD, così da avallare la decisione che l'ospedale dell'Aquila non sarà mai un DEA di secondo livello.